Ragazzi sta per arrivare un mega evento, faccio vedere l'auto che verrà utilizzata in questa serata, in questa competizione quindi vi consiglio di andarla a comprare subito perché adesso appena pubblico il video sarà presente tra le auto leggendarie siamo a metà dicembre, fra poco ci sarà Natale, tutte le festività, quindi aspetto prima di lanciare l'evento perché molti di voi saranno impegnati per famiglie, amici e cose varie ma appena i ritmi rallentano un po' quindi diciamo i primi di gennaio magari dopo la Befana arriverà appunto questo evento dedicato alla 155 rappresentata qui con questa bellissima livrea Martini i dettagli ve li voglio tenere un attimo nascosti per alzare un po' il hype di tutti quanti però quello che sarà certo è che sarà una serata pazzesca come partecipare è molto semplice, ovviamente è riservato a tutti gli iscritti, a tutti i piloti del Poison Racing Team passati, presenti e futuri e se non siete ancora parte di questo team ormai enorme stiamo correndo verso i 200 piloti iscritti come fare appunto in descrizione c'è un link al server Discord lo cliccate venite lì sopra e poi una volta sul server ci saranno tutti i ragazzi che vi spiegheranno i dettagli per sistemare il vostro nick in modo tale che sia in linea con le nostre poche regole sul server organizzerò con voi, voglio stilare con voi, legare tutto quanto, le caratteristiche di questa lobby ma è ormai ufficiale che nei primi giorni di gennaio arriverà questo evento sulla 155 l'auto è disponibile, andate a comprarla, costa solo 800.000 crediti ve la fate in una gara a Tokyo o a Le Mans o in Sardegna sceglieremo anche le livree che ognuno di voi dovrà autorizzare perché sarà uno spettacolo anche visivo per chi ci guarderà ovviamente in una live che porteremo sui nostri canali quindi rinnovo l'invito, comprate questa bellissima alfa passate una bellissima giornata iscrivetevi sul canale Discord entrate nel team e poi tutto il resto sarà storia grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao